buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento una rara bmw z3 dico rara perché motorizzata con il 6 cilindri in linea da 2 litri 150 cavalli è stata prodotta in pochissimi esemplari solo in un ristretto periodo tra il 99 del 2000 questo è un 1999 ha percorso 115 mila chilometri si trova in condizioni veramente ottime fatto salvo due piccoli segni di consumo sulla capote e una riparazione esigua da fare il sedile di guida monta ruote in lega bmw 17 pollici con canale differenziato capote elettrica i sedili sono in pelle nera il volante tre razze in pelle ecco vi mostro gli interni 115 mila chilometri il radio originale bmw climatizzatore cambio manuale naturalmente antifurto al cambio cristalli elettrici vettura che funziona in maniera veramente regolare disponibile in pronta consegna vi aspetto gussago presso il nostro tussalone pasolini auto per vedere provare ed eventualmente acquistare questa vettura che ormai è iconica grazie